Riprende la propria posizione, Panamadete la prende lanciata. Di galoppo Pantera Jet. Fellotta per il comando con Panamadete che rientra a Pissarrofermi, il quale si ritrae subito nella sua scia. A largo performance la squalifica per Pantera Jet. Si va all'imbocco della prima curva, 14 il lancio con performance che chiede strada. Sopra avanza Panamadete a metà della prima piegata, ottiene il comando delle operazioni. Pissarro ferma e lì terzo con la voglia di venire via. Dopo 429.8 si affaccia a Pissarro, subito anticipato da Panamadete. Allora Pissarro ritorna in corda, Panamadete ritorna al lato di performance. Nel frattempo va a riprendere in mano. 600 in 45.8 viene tattica, Panamadete che probabilmente ritornerà davanti. Lo scambio che si concretizza, no, con spesa davvero zero. Panamadete in vantaggio a Pissarro viene davvero molto dura a questo punto perché si ritrova in quarta posizione dopo 800 metri. 1,2 abbondanti di 800, 16,4 impiegata. Panamadete al comando senza spendere. Pissarro ora è terzo perché sbaglia, Pellet va. Sono rimasti praticamente in quattro al completamento del chilometro dove sposta a Pissarro ferma. 18,2 il giro. 32 abbondanti 400. L'abbordata di Pissarro ferma che mette via performance. Attacca Panamadete la sopravanza a 4,50. La conclusione passa. Pissarro ferma con un parziale in 14,2. 1,32 e mezzo, 3,4 miglio con in vantaggio. Pissarro ferma in seguito da Piuma Leggera Spina che attacca Panamadete. Lì altri che non esistono quando si va a 200 al palo e ferma Panamadete. Pissarro cerca la fuga. Piuma Leggera Spina che invece insegue a metà della dirittura. Pissarro ferma che nel tratto conclusivo viene a vincere nettamente. Piuma Leggera Spina è secondo. Al terzo per mancanza di opzioni Panamadete. 2,2 il rotolo. 29,5 la chiusa. 1,16,2 la media al chilometro. Non si era messa bene dal punto di vista tattico per Pissarro ferma che ha dovuto subire un po' lo scambio tra Panamadete e performance. Ma in qualche maniera si è liberato. Complice anche l'errore di Pelletto va a un parziale secco per mettere a sedere Panamadete. Così il kicktail di Eros Melis si è allontanato da Piuma Leggera Spina che buona seconda. Al terzo una deludente Panamadete. 2,6,1 l'arrivo della quinta.